Ciao a tutti, bentornati sul canale! Allora, ecco qui il pacco numero 6 di Optimus Prime. Questa volta vedete che è molto grande. Agora Models mi ha fatto avere il pacco che contiene i pezzi per costruire i piedi. Quindi, siccome credo che sarà un video come al solito lunghetto, non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo subito il montaggio. Allora, diciamo che questo pacco numero 6 inizia facendoci fare dei test sulle luci. Allora, dobbiamo prendere il pacco batteria vecchio e il nuovo circuito contenuto in questo pacco, da non confondere con quello che abbiamo usato per la testa e gli occhi. Questo è diverso perché ha un connettore da tre piedini qua. Quindi andiamo a prendere questo cavo molto lungo contenuto in questo pacco, lo colleghiamo qui e andiamo a testare queste luci. Le dobbiamo testare, vedete, prima di montarle ovviamente perché poi, come al solito, se ci sono problemi è un casino. Quindi, fatto questo piccolo test, possiamo proseguire. Allora, andiamo a prendere questo mega pezzo di metallo e ci andiamo a mettere sopra questo altro più piccolo. Ci sono quattro punti vite da avvitare con quattro viti PWM 2x6. Allora, io ovviamente, siccome i piedi sono due, vi andrò a mostrare un solo montaggio, chiaramente. L'altro lo faccio separatamente, ma insomma sono assolutamente identici. Quindi, vedendone uno, li vediamo praticamente tutti e due. Quindi, vado a mettere queste due, queste quattro viti, scusate, qui e poi possiamo proseguire con lo step successivo. Allora, poi prendiamo questo pezzo TR612, quello con la lettera L e andiamo a mettere i pezzettini giallo e rosso in questo punto qui. Ci mettiamo sopra la copertura L, sempre corrispondente, e sopra ancora ci mettiamo la prima delle due luci che abbiamo testato poco fa. Dopodiché, prendiamo due viti 2,3x6 e andiamo ad avvitare. Mi raccomando, visto che c'è un circuito stampato, siate delicati quando stringete la vite, perché sennò il circuito si spezza e poi ovviamente non funziona nulla. Quindi andiamo a stringere anche quest'altra parte sulla plastica e abbiamo questo risultato. Chiaramente va ripetuta la stessa cosa per il lato destro. Ok, poi prendiamo la struttura costruita con la lettera L e la andiamo a mettere qui dentro, in modo tale che si veda da fuori in questo modo. e va avvitata con due viti PWM 2x6. Quindi lo andiamo ad avvitare in questo modo. E poi ovviamente possiamo ripetere già la stessa cosa sull'altro lato. Ovviamente non è obbligatorio farli tutti e due insieme, è una vostra scelta. Io preferisco andare parallelamente così, diciamo, mi trovo già il lavoro fatto. Su entrambi questi piedini delicati, che man mano che montate vi renderete conto di quanto sono grossi. Sono praticamente quasi delle scarpe normali. Quindi guardate qua che bellezza. Ok, proseguiamo con il pezzo TR614, dove andiamo a mettere questi pezzi gialli, messi in questo modo, che vanno avvitati con le viti 2,3x6. Quindi li andiamo a mettere qui. Chiaramente sono sempre due pezzi da fare, perché i piedini sono due. Quindi andiamo a fare la stessa cosa su due pezzi. E state vedendo che, insomma, solo le punte dei piedi sono enormi. Diciamo che veramente si capisce alla grande la dimensione di questo modello, che è veramente enorme, grosso grosso, e quindi non vedo l'ora di poterlo vedere completo. Ok, allora andiamo a prendere il pezzo TR607 e il TR605, che è quello con la lettera L. Allora, andiamo a mettere un po' di olio qui, qua e qua, e anche qua e qua, perché dobbiamo andare ad avvitare questa parte, che è sicuramente bella dura. Allora, andiamo a prendere le viti 3x8, PM 3x8, ci mettiamo la solita rondella, e poi con il nostro cacciavite, con la punta esagonale, quindi a brugola, andiamo ad avvitare questa struttura. Chiaramente è inutile dirvi che quando si mette l'olio entra tutto alla grande, senza nessun tipo di problema, e quindi possiamo avvitare piuttosto velocemente. Poi la stessa parte, diciamo, va fatta per l'altro piede, ma insomma, sono tutte complementari e speculari, diciamo, quindi non ci sono problemi di sorta per capire. Io poi vi faccio sempre vedere il risultato finale di uno, così insomma avete la visione completa di quello che stiamo facendo, ma insomma ritengo che anche le istruzioni siano fatte super bene e quindi c'è veramente bisogno di poco tempo per andare a spiegare queste parti perché sono fatte molto bene e poi vedete quando c'è di mezzo l'acciaio e tutte queste parti è veramente un piacere per gli occhi andare a costruire. Poi con altre due viti, sempre PM3x8, andiamo a mettere questo pezzo qui dentro. Questo serve per lo snodo, quindi siccome è importante, andiamo a mettere l'olio anche qui. Mi raccomando, munitevi di olio Svitol che vi semplifica la vita. Allora, andiamo ad avvitare qui. Premetto che non mi paga nessuno per dire questa cosa, ma diciamo lo faccio solo per facilitare il lavoro di tutti. Allora, prima di stringere bene in posizione andiamo a mettere entrambe le viti, così se c'è qualche disallineamento lo possiamo correggere subito, ma non c'è e quindi si procede veramente molto veloci e super bene. Guardate che spettacolo! Poi prendiamo questo pezzo TR609 e lo andiamo ad inserire qua, in questo modo, qui sopra, e andiamo ad avvitare sempre le viti 3x8 in questo punto, nel punto, diciamo, interno. Quindi qua, vedete, lo vado ad avvitare così. Non ci sono lettere scritte sopra, quindi diciamo, io lo sto mettendo più o meno senza leggere, perché suppongo appunto che sia lo stesso pezzo identico per l'altro lato. Quindi sto facendo due parti speculari assolutamente identiche, che poi chiaramente vi mostrerò alla fine. Allora, questa non entra perché, ecco, infatti c'è un piccolo disallineamento, quindi infatti non dovevo stringere troppo forte il lato numero uno, ma farli alla fine, infatti bisogna sempre stringere dopo, perché se c'è un minimo di problema, infatti vedete che allentando un attimo è rientrato subito. Quindi adesso possiamo andare a stringere, e guardate che struttura incredibile. Questo prodotto, questo modello, è veramente super. Ok, prendiamo il pezzo TR603, ci mettiamo dentro questo pezzo TR616, in questo modo qui, e andiamo a mettere l'olio in questi quattro punti, perché qui ci dobbiamo avvitare sopra questo pezzo. Andiamo ad utilizzare sempre le viti 3x8, che sono veramente tante fornite, sono più bustine, e vado ad avvitare. Chiaramente qui serve una discreta forza, perché insomma andiamo a stringere in posizione una parte molto importante, quindi mi raccomando, stringete bene, e poi ripetete la stessa parte sull'altro piede, sulla parte destra, che è assolutamente speculare come operazione, quindi sicuramente molto semplice e molto veloce da fare. Mi domando, insomma, se alla fine questo modello peserà forse una tonnellata, non so su quale supporto si può mettere, perché insomma già da questi pochi pezzi che stiamo montando, si capisce il peso, che sarà veramente alto, quindi insomma servirà una mensola molto ben ancorata al muro. Prima di procedere andiamo a prendere il filo che abbiamo ricevuto prima, e lo facciamo passare qui all'interno di questo buco, perché praticamente deve passare poi dietro, quindi lo facciamo andare così, lasciamo una piccola parte sopra, messo così, e il resto lo facciamo scorrere qui sotto. Poi vedremo dove va collegato, e quindi a questo punto poi possiamo andare avanti, perché questo cavetto servirà ovviamente per essere collegato dove c'erano le lucine che abbiamo montato prima. Poi prendiamo il pezzo TR610, che è quello con la lettera L, visto che stiamo costruendo in video la parte L, io mi sto facendo parallelamente l'altra, ma qui vediamo la lettera L, quindi la prendiamo qui, la mettiamo e dobbiamo avvitare con 4 viti 2,3x6, quindi l'andiamo a mettere in posizione e iniziamo ad avvitare. Chiaramente questo ha bisogno di un supporto, o lo tenete così come sto facendo io, oppure ci mettete semplicemente una mano sotto. L'importante è fare questo passaggio bene, perché sulla plastica insomma non si scherza, c'è una pressione diversa che si può applicare senza fare danni, quindi insomma cerchiamo di stare attenti. Mettiamo queste 4 viti, così si blocca in posizione questo pezzo, e facciamo attenzione a verificare che il filo rimanga mobile, cioè diciamo dobbiamo poterlo tirare in modo tale che, infatti il mio non si tira, quindi facciamo, l'ho detto a voi, ma insomma lo devo controllare anche io, bisogna fare in modo tale che il filo rimanga mobile, perché insomma dobbiamo sicuramente poi aggiustare la lunghezza, quindi facciamo così, non stringiamo eccessivamente in modo tale che poi si può sistemare ad evento, una volta che abbiamo messo il collegamento sui led. Poi prendiamo il pezzo TR602, lo poggiamo qui, e ci andiamo a mettere dentro altri due pezzetti di quelli grigi estetici. Vado a mettere l'olio nei 4 punti che devono essere avvitati, dopodiché vado ad appoggiare questa struttura qui, facciamo sempre passare il filo in mezzo, mi raccomando il filo deve essere sempre mobile come vedete, e andiamo ad avvitare sempre con altri viti 3x8, che andiamo a mettere qui, e andiamo ad avvitare chiudendo questa struttura. Fate attenzione a non tranciare il filo, sennò poi ve lo dovete fare sostituire, oppure se siete capaci ve lo dovete risaldare, ma insomma è meglio fare attenzione sin da subito. Quindi vado ad avvitare questa struttura, e sto verificando veramente la grandezza di questo piede, che è sicuramente più grande di quello di un ragazzino, e quindi è decisamente impressionante quanto è grosso. Guardate un po', io adesso non lo so, ma secondo me è tipo un 35 abbondante, un 34 forse, volendo rimanere un po' stretti, ma veramente grosso grosso. Quindi insomma, attenzione, andiamo a verificare qui. Poi ecco una cosa, possiamo sempre verificare lo stato delle luci, poi magari alla fine verifichiamo se funziona ancora tutto. Allora, andiamo a tirare più possibile questo filo nella parte lunga, così, e andiamo a fare il collegamento qua. Allora, lo attacchiamo in posizione, tanto entra solo nel modo giusto, insomma, quindi non ci possiamo sbagliare. Lo inseriamo, tiriamo ancora un pochino, perfetto, quanto basta per arrivare a chiudere il piede. Deve essere ovviamente messo in questo modo. Andiamo a testare rapidamente la funzione delle luci, prima di chiudere, così siamo sicuri che tutto sia nel verso giusto. Vedete, funziona tutto. Quindi possiamo andare ad avvitare. Perfetto, quindi sempre con le viti 3x8 e le rondelle, andiamo ad avvitare la parte di chiusura di questo lato del piede. Allora, è importante fare bene tutti questi passaggi, perché chiaramente poi, no? Servono per la stabilità, visto che qui si tratta dei piedi, è meglio farli super bene. Oh, non vi preoccupate se cade un po' d'olio dalle parti che ho fatto. Insomma, se vedete un po' d'olio sul tavolo, non fa niente, perché tanto quello poi si può togliere con un semplice panno. È sempre meglio un po' più di olio che un po' meno olio. Quindi non vi spaventate, non fa niente se c'è l'olio che esce. Chi se ne frega. Però sappiamo che abbiamo fatto un lavoro super preciso e, diciamo, senza nessun tipo di problema legato a rotture di viti o cose del genere. Anche se, ve lo dico molto sinceramente, rompere queste viti qui è praticamente impossibile, ma non si sa mai. Ok, allora, poi prendiamo questo ultimo pezzo e ci andiamo ad avvitare dentro la struttura con i pezzetti gialli che abbiamo fatto prima e lo dobbiamo fare con altre due viti due per sei. Quindi le andiamo a prendere, sono le uniche rimaste. Quindi le andiamo ad inserire qui e poi questa struttura si può ovviamente mettere. Allora, una volta che mi sono dimenticato di mettere l'olio, vedete quanto sono dure queste viti? Quindi, olio, come se piovesse, ricordatevelo sempre, tanto olio e non avrete problemi di nessun tipo. Allora, vediamo se adesso, guardate come scorre delicatamente dentro, proprio zero problemi. E allora, vado a mettere anche l'altra vite qui, dopodiché questa parte la possiamo avvitare sul piede. Allora, dobbiamo vedere come va. Ecco, va messa in questo modo. Ah, ovviamente io ho ri-arrotolato la parte del filo perché tanto per il momento non la usiamo. Questo lo andiamo a mettere qui e poi nella parte di sotto andiamo ad avvitare con le viti 3x12. Sono quelle più lunghe e ne andiamo a mettere 4 da una parte e 4 sull'altro piede. Allora, andiamo ad avvitare. Io qui non ho messo l'olio ma sono confidente che in questo caso vada bene. Infatti, qui non serviva. sono fenomenali queste viti e procedo andando a chiudere la diagonale. Ok. Quindi, questa è fatta anche questa. Diciamo, fatta molto bene. Chiusa, super dura e in maniera già definitiva e andiamo a mettere anche le ultime due per chiudere questo piede sinistro. Poi ovviamente vi faccio vedere anche il destro. Ci mancherebbe ma è assolutamente identico. Vi dico che non ho neanche guardato le istruzioni per farlo perché diciamo è assolutamente speculare il montaggio quindi super semplice. Diciamo l'unica attenzione che dovete fare è legata alle viti perché non ci sono viti extra quindi se ve le perdete sono dolori. Parlo di queste viti qua, queste più grosse quindi attenzione. E quindi questi sono i due piedi completati direi sicuramente il pacco di lavoro più semplice per adesso e sono assolutamente soddisfatto quindi non vedo l'ora di iniziare a costruire le gambe per poi ovviamente proseguire insieme a voi il montaggio. Guardate quanto sono grossi questi piedi forse non lo so se vi rendete conto ma vicino alla faccia insomma sono grossi come una testa di una persona insomma devo dire che il livello di soddisfazione è veramente alto anche a livello di particolari e di dettagli è tutto fantastico e tutto preciso non ci sono sbavature non ci sono difetti quindi super felice di questo Optimus Prime quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina così non vi perdete le prossime fasi di montaggio del nostro Optimus Prime di AgoraModels.com detto ciò vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao ciao